Perché Fratelli d'Italia sostiene questa critica al decreto Lupi? Il problema è la tutela di questo territorio. Il decreto Lupi sembrerebbe non tutelarlo per nulla. Esiste un problema, il problema si chiama malpensa, il problema si chiama occupazione, il problema si chiama territorio. Non si può far finta di niente e cercare invece di risolverlo con soluzioni che lo danneggiano invece di tutelare.